La questione della paura è centrale, non è vero che la modernità costruisce la politica intorno alla ragione, la costruisce prevalentemente intorno alla paura, domata in un qualche modo dalla ragione, ma intorno alla paura. L'esperienza originaria è la paura. Thomas Hobbes quando dice stato di natura dice paura. La differenza vera dal punto di vista della paura fra la modernità e le epoche che l'hanno preceduta è che naturalmente la paura era conosciuta anche nel mondo antico e anche nel mondo medievale, ovviamente, ma non era per niente il centro della politica. Sarebbe stato qualche cosa di vergognoso per un greco o per un romano pensare che la politica ha a che fare con la paura, la politica ha a che fare con la virtù, qualunque cosa voglia dire virtù. Per un uomo del Medioevo la paura, l'unica paura legittima, che poi è una paura pre-politica, è la paura per il Signore Timor Domini, Inissim Sapiense. E poi di lì discende l'obbedienza all'autorità, all'epistola ai romani. L'inizio anche lì non è veramente la paura, l'inizio è la fede. È l'età moderna invece che costruisce la politica intorno alla paura. Per alcuni motivi, primo dei quali è ovviamente venir bene della fede, che non vuol dire che in età moderna non si crede più in Dio, questa non sarebbe una sciocchezza, vuol dire che in età moderna la politica non può più legittimarsi fondandosi su Dio. Perché? Ma perché è troppo sfilacciato, la nozione di Dio è troppo sfilacciata e dopo un po', dalla metà del Cinquecento in poi, è in virtù di Dio, il nome di Dio che ci si uccide, le guerre civili di religione in Europa. Dio non può più essere il fondamento di niente perché è il principio del disordine, non è il principio dell'ordine. Ma anche prima delle guerre civili di religione in Europa, cioè anche solo con Machiavelli che non le vede per poco, ma non le vede, i processi di secolarizzazione erano arrivati a un punto che impediva di pensare come inizio Dio e se non c'è Dio c'è la paura. La cosa su cui volete chiamare un posto attenzione è la nettezza dei termini con cui le lingue moderne parlano di paura. C'è un autentico spreco. Allora, anche nel greco antico e anche in latino. In greco antico c'è Deus, Phobos, Dein. In latino c'è Pavor, Timor, Formito, Terror, Metus. In inglese, e qui è nella lingua moderna, c'è Fear, Oh, Dread, Terror, Fright. In tedesco Angst, Furcht, Schrecken. In francese Peur, Krant, Terror. E qui in italiano abbiamo paura, timore, terrore, angoscia, spavento. Vedete con quanta finezza siamo capaci, le lingue moderne e anche greco e latino erano capaci di distinguere fra lo stato d'animo, la manifestazione esteriore dello stato d'animo, la disposizione generale e l'angoscia, diciamo, e la reazione attuale determinata, il panico, il terrore. Non è giusto parlare di Homo Timens, non c'è un Homo Timens. L'uomo ha sempre avuto paura, ovviamente, di qualcosa, ma la politica non si è sempre costruita intorno alla paura. In età moderna sì, in età moderna sì, in modi diversissimi fra di loro. Se uno prende alcuni autori celeberrimi adoperati come esempi, prendi Machiavelli, prendi Posse, prendi Hegel, prendi Nietzsche, vedi, vedi le... Poi alla fine vediamo Jung, perché Jung incoda a dice, seguendo Nietzsche, ribalta il modo con cui si prese. democrats ma non paura. Grazie 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 Grazie